I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri, in base al DMC numero 145 del 203 2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolare dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Se ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è bonca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casalotto e tv. Eccoci buongiorno, buongiorno a tutti. Primo appuntamento piccolo, il più corto dell'intera giornata di Casalotto perché poi c'è l'ora del poveriggio e la mezz'ora della sera. Velocemente perché 15 minuti volano, volano, ormai lo sappiamo e allora subito dal buongiorno a Marco. Ciao, ciao Sheila, ben ritrovata. Un buon mercoledì mattina a te, un buon mercoledì ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto, giornata post estrazione. Ricorderemo ovviamente anche alcuni dei risultati della quinta estrazione, quella di ieri sera, molto carina. Per cui anche oggi pomeriggio sintonizzatevi perché insomma lì c'è l'intera ora, anche stasera insomma riusciamo ovviamente a ripercorrere meglio i risultati. Vi anticipo che parleremo di due sole cose e su tutte e due fanno fronte ancora una volta, un po' come si è detto anche ieri sera durante la diretta con le vincite e non, l'88 e il 92, due numeri molto molto particolari. Quindi prepariamoci per quella che appunto sarà domani la sesta estrazione. Sentiamo l'unico argomento e poi dritti in redazione. Allora parleremo di statistiche, la doppia linea di ciglia, questo è il titolo, non dico nulla. Le ciglia queste? Eh, ma? Doppia linea? Ma che roba è? È una malformazione? Comunque sì, parliamo di ciglia, è giusto, esatto. Doppia linea? Io l'ho anche persa. Andiamo in redazione, partiamo 88 e 90, andiamo subito in un portale che contiene l'ambo con l'88, l'ambo con il 90 e l'abbinamento. del lambo 88 e 90 ed è solo una delle due tracce legate a questi due numeri straordinari per domani sera. Venite con me. E allora il tempo è veramente poco, 895 095, tasto 3 come ho appena detto, prima traccia legata a due numeri straordinari, ambo con l'88, ambo con il 90, abbinamento dell'88 e 90. Vi aspetto insieme a Lio al tasto 3. Tu sei l'ora in cammino, amica del mattino, il tempo di ogni giorno, casa a cui ritorno. Tu sei l'acqua marina, il verde di collina, la luce di ogni sera sarà sempre vera. E la voce tu sei di tutti i giorni miei, pensiero che va, che via mi porterà. Tu sei quella aspettata, la donna ritrovata, è sempre bella attesa, bellissima sorpresa. Tu sei madre di pace, sorriso che mi piace, mi opposco il mio giardino e sarà qui vicino. E la voce tu sei di tutti i giorni miei, pensiero che va, che via mi porterà. E la voce tu sei di tutti i giorni miei, pensiero che va, che via mi porterà. Tu sei l'ora in cammino, amica del mattino, il tempo di ogni giorno, casa a cui ritorno. Tu sei l'acqua marina, il verde di collina, la luce di ogni sera, e sarà sempre vera. E la voce tu sei di tutti i giorni miei, pensiero che va... E la voce tu sei di tutti i giorni miei, pensiero che va, che via mi porterà. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti